Siamo, siamo sempre qui. Ogni volta che viene ammazzata una donna, qualche giornalista non riesce a trattenere la propria goffa vanità da romanziere noir e non riesce a capire che minimizzare, normalizzare, romanzare, se non addirittura empatizzare con l'assassino, sia il modo migliore per anacquare il problema dei femminicidi. Questa volta tocca a Brunella Giovara che su Repubblica ha scritto un articolo da Pelle d'oca. Ma la Pelle d'oca non è solo per l'ennesimo omicidio di una donna che paga la furia omicidia di un uomo che voleva rivendicarne il possesso. Chiara Ugolini sarebbe, secondo gli inquirenti, stata uccisa per un tentativo di stupro del suo vicino di casa Emanuele Pellizzeri, uno di quei fascistelli che urla sempre in difesa delle nostre donne e che poi le nostre donne se le vorrebbe mangiare. Ma tutto questo per un articolo che è una vergogna. Il primo punto che salta all'occhio, in tutto il pezzo, letto tutto per il lungo, è che non compare mai il nome dell'assassino. Anonimizzare l'assassino è il metodo perfetto per scufugliare nella vita della vittima e rivittimizzarla ancora. Come se il gioco consistesse tutto nello scoprire se sia stata lei a fare qualcosa che non doveva fare. Il pezzo parte con, sentite bene, una bella impossibile alta bionda, una ragazza che camminava serena incontro alla vita. Perché non vorrete mai che venga a mancare l'ipersessualizzazione della vittima. Anche in questo caso la prima caratteristica di Chiara Ugolini è ovviamente il suo corpo. Tanto per gradire. Poi c'è la descrizione dell'assassino, sentite qui. Mi sono arrampicato sul suo balcone e se è davvero andata così bisogna pensare a questa specie di scimmia cattiva che vuole sorprendere, violentare, prendersela vicino di casa. Scrive Repubblica. Avete capito bene? L'assassino non è un assassino, un pregiudicato. Non si dice che è l'ennesimo uomo che odia le donne. Non si dice che è fascista e quindi presumibilmente violento. Non si dice che è uno stupratore. No, no. È una scimmia cattiva. L'hanno scritto davvero. E la giornalista ci tiene anche a dirci che Chiara Ugolini gli diceva solo ciao, mai niente più. Come se un eventuale interesse invece avrebbe potuto giustificare un omicidio. Poi la giornalista ci dice Non è per amore dei particolari macabri che si scrivono certe cose ma queste storie vanno capite soprattutto se poi l'omicidio è. Allora quali sono i particolari? Sentite qui. Dalla piazza si vede il lago di Garda. Da qui no. Solo un gran traffico. Camper e rullotte. La fiumana dei turisti tedeschi che ama questa pace. L'acqua che scintilla il tramonto. Gli ulivi, i cipressi. Anche Chiara amava questi posti per quanto la casa di Calmasino fosse provvisoria. Lei sul balcone aveva le rose rosse, un vaso di fragole, la pianta di peperoncini, il tavolo, due sedi bianche, l'edera e il rosmarino. Tutto è rimasto così. Cioè in occasione del settantesimo femminicidio dall'inizio dell'anno. Qui siamo ancora a descrivere i luoghi come in un day plan turistico. E poi si è fatta la doccia a scrivere pubblica. Si è rivestita gli slip un top a coprire il reggiseno. Perché un po' di morbosità non guasta mai. La giornalista ci tiene a scrivere anche che magari ha anche dato da mangiare al canno in cucina. Come se fosse un'informazione utile per le indagini. Che poi è solo un'ipotesi. Chissà per cosa. E poi c'è il solito strabismo. Ci si impegna a dire che Chiara è una gran lavoratrice. Nel pezzo scriviamo, leggiamo, lavorava nel negozio di abbigliamento e scarpe del futuro suo. C'era un quarto d'ora da casa, su e giù tutti i giorni. Studiosa. E poi Chiara era diffidente se qualcuno suonava alla porta. Chiedeva sempre chi era, non apriva facilmente. Insomma, l'importante è sempre non avere dubbi sul fatto che possa essersela cercata. Il 27 novembre del 2017 è stato fermato, in collaborazione con il Ministero alle Pari Opportunità, un manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto della parità di genere dell'informazione. I punti erano inserire nella formazione odontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato nei casi di violenza sulle donne minori. Adottare un comportamento professionale e consapevole per evitare stereotipi di genere. Assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate. Adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali. Attuare la par con di condizio di genere. Utilizzare il termine specifico femminicidio per i delitti compiuti sulle donne, in quanto donne e superare la vecchia cultura della sottovalutazione della violenza. Poi, sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano violenze di serie A e di B. Illuminare tutti i casi di violenza utilizzando un corretto linguaggio di genere. Mettere in risalto le storie positive di donne. Evitare ogni forma di sfruttamento a fini commerciali, più copie, più click maggiori ascolti della violenza sulle donne. Nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, dicono evitare espressioni che risultano rispettose, denigratorie o svalutative dell'identità della dignità femminile. Termini come amore, raptus, follia, gelosia, passione accostata ai crimini. L'uso di immagini e segni stereotipati che riducono la donna a mero richiamo sessuale o oggetto del desiderio. Suggerire attenuanti giustificazioni dell'omicidio, raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza nel rispetto della sua persona. Ognuno tira le sue conclusioni. Buon giovedì.